Siamo qui con Samuele Pianetti, giocatore della Juniores, si è avvicinato al Calcio 5 solo quest'anno. Gli chiediamo quindi un'opinione di questa partita, di queste due partite che abbiamo fatto oggi e un'opinione su questa sua esperienza dopo questo primo mese. Allora la mia opinione su queste due partite che abbiamo reso, ci abbiamo messo grinta in tutti i sensi. Purtroppo è finita che abbiamo perso ma non ci sconfiggiamo perché sappiamo che possiamo fare ancora meglio con il nostro mister che non è da buttare via. Speriamo di fare un buon campionato e di arrivare sempre più in alto. A mio parere su oggi si vedeva che erano più forti di noi, giravano meglio e noi dobbiamo ancora imparare molte cose per stare dietro queste squadre. Per esempio le posizioni. Rispetto a questo primo mese di lavoro, questa nuova esperienza, in questa nuova squadra, con nuovi compagni di squadra, come ti sembra? Siamo un buon gruppo, ci siamo integrati bene. Facciamo dei buoni allenamenti e tutto. In teoria le previsioni per il futuro dovrebbero essere belle. Hai delle aspettative per quanto riguarda te e per quanto riguarda la squadra? Io personalmente spero di andare a cercare una prima squadra e qualche bella società. Salutiamo Samuele, ringraziamo, complimenti comunque per la prestazione di oggi. Complimenti a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Vederci. Grazie.